ciao a tutti oggi un video veloce perché parlerò di tecniche per applicare velocemente delle transizioni a clip multiple sia video che audio all'interno della timeline questo video nasce da alcune domande che sono nate all'interno dei commenti nei video presenti all'interno del canale quindi ho deciso di proprio di fare un tutorial apposta cioè se io ad esempio voglio applicare una transizione al nero quindi una fade in sul video in ingresso vedete ci sono le maniglie di fade presenti e io quindi le posso allungare per avere un fade in in ingresso sul video ma posso avere anche una dissolvenza al nero direttamente al taglio andando ad allargare queste aree di fade in ok posso fare la stessa cosa anche sull'audio quindi avere un ingresso morbido dell'audio in ingresso bene fin qui tutto abbastanza chiaro il problema è che se lo devo applicare a tante clip devo farlo manualmente per ogni clip l'alternativa qual è è andare a utilizzare l'effetto library vado nell'effetto library posso prendere ad esempio una transizione video supponiamo di prendere quella di default e la possiamo facilmente vedere perché quando c'è questa barra rossa vuol dire che il cross dissolve è la transizione video predefinita se adesso seleziono una clip e faccio doppio clic su cross dissolve vedete viene applicato unicamente in ingresso quindi al taglio in ingresso della clip io posso però prendere il mio cross dissolve e applicarlo al taglio che voglio a questo a questo l'importante è che ci siano sempre delle maniglie ai lati il mio problema è che se voglio applicarlo ad esempio a tutti questi tagli se faccio doppio clic lui lo applicherà sempre al primo se vado a trascinarlo io lo applicherò sempre solo un taglio alla volta quindi come faccio ad applicare una transizione a più clip contemporaneamente io posso ad esempio fare tasto destro e andare a cliccare su add to selected edit points and clip se faccio in questa maniera vedete vi viene applicata a tutte le clip che sono attualmente selezionate quindi a tutti i tagli delle clip attualmente selezionate questo può essere sicuramente un buon modo tasto destro add to selected edit points and clip però esiste un metodo anche più veloce che fa uso degli shortcut ecco però gli shortcut fanno uso unicamente della transizione di default mentre questa tecnica io la posso applicare a qualsiasi transizione se posso prendere ad esempio lo sliding questa tasto destro add to selected edit points e adesso andrà in sliding su tutte su tutti i punti di taglio bene se devo fare le cose veloce io so che applico tutte le mie clip supponiamo un blur dissolve faccio diventare il blur dissolve la mia transizione di default facendo tasto destro set as standard transition quindi transizione standard diventa il blur dissolve e lo vedo da questa barretta rossa esco un attimo dall'effect library seleziono tutte le mie clip uso lo shortcut alt più t quindi alt option più t e vedete che lui applicherà la transizione di blur dissolve su tutti i tagli video quindi alt option più t su tutti i tagli video quella di default quindi il blur dissolve come possiamo vedere ok quindi tutto piuttosto facile adesso facciamo un ctrl z andiamo a vedere le transizioni audio apriamo l'effect library andiamo in audio transition e vedete che qui ne abbiamo solamente di tre tipi quello base fa un crossfade su zero decibel quindi che è quello di default quindi se lo voglio applicare anche in questo caso posso fare la selezione delle clip su cui voglio applicare il crossfade faccio tasto destro e lo posso applicare ai selected edit points and clips posso utilizzare anche in questo caso lo shortcut quindi senza aprire l'effect library seleziono le clip interessate supponiamo in questo caso che siano tutte e invece di fare alt t che mi applica solo le transizioni video per applicare le transizioni audio vado a cliccare su shift più t e vedete che mi viene applicato il crossfade bene faccio un ctrl z ma se invece voglio applicare contemporaneamente le transizioni audio e le transizioni video come faccio seleziono tutte le mie clip e premo ctrl command più t e vedete quindi vengono associate tutte le transizioni di default quindi il cross dissolve in questo caso il crossfade a zero decibel quindi vedete che i modi per poter applicare velocemente delle transizioni ci sono e gli shortcut sono sicuramente lo strumento ideale quindi il tasto t è unito ai modificatori ctrl command per quanto riguarda l'applicazione contemporanea su tracce audio e tracce video alt option per applicare solo le transizioni video e shift invece per applicare solo le transizioni audio ti ricordo che puoi cambiare la durata della transizione predefinita direttamente dalle preferenze sezione user andiamo su editing e nella sezione general settings troviamo la standard transition duration adesso è settata un secondo ma io la posso far durare come mi pare quindi scelgo qui la durata naturalmente puoi andare a riassegnare gli shortcut perché ad esempio se vado a prendere il mio pulsante t quindi lo vado a selezionare e vado a vedere ad esempio col tasto alt vedete c'è l'apply video only transition quindi questa funzione io la posso assegnare come voglio vado a scrivere ad esempio transition all command e qui avrò add audio only transition e shift più t add transition e ctrl più t e add video only transition e alt più t che è esattamente quello che abbiamo detto prima qui quindi potete riassegnare il shortcut come siete più comodi e con i modificatori e i pulsanti che vi sono più congeniali spero di aver chiarito alcuni concetti relativi alla velocità di applicazione delle transizioni audio video all'interno della edit page e noi ci vediamo nel prossimo tutorial all'interno del canale grazie a tutti